Benvenuti a Banana Contabilità Plus. Gestisci la contabilità e ottieni rapidamente l'attestato di donazione. Un attestato di donazione è la prova di una donazione che viene volontariamente donata ad un'associazione. Per gestire le donazioni nella contabilità si utilizzano i centri di costo. Per ogni donatore è necessario definire e utilizzare un centro di costo diverso. E indicare l'anagrafica completa. Inserisci i movimenti relativi alle donazioni. Devi aggiungere il centro di costo relativo al donatore nella colonna apposita. Puoi modificare le registrazioni in qualsiasi momento. Nella sezione Indirizzo dei dati base indica l'indirizzo dell'associazione. Seleziona il report attestato di donazione. Definisci alcuni parametri per la stampa del report. Clicca su Aiuto per visitare la documentazione online. È utile in caso di problemi o se hai bisogno di maggiori spiegazioni. Ottieni così l'attestato di donazione per ogni donatore, in maniera semplice e veloce. Con lo stesso meccanismo in futuro si potrà creare anche la comunicazione delle erogazioni liberali. Grazie.